La partita è più equilibrata di risultato La partita è stata determinata dagli episodi Per l'appunto, episodi, ma cos'altro non ha permesso Alcanosa di recuperare quello 0-1 soprattutto in un primo tempo dove francamente si è visto grande equilibrio probabilmente l'episodio del rigore ha fatto cambiare un po' tutto vi siete anche un pochettino nervositi, è arrivato il secondo giallo a Budabuzzi dopo 24 secondi la partita si è messa sui canali sbagliati Sì, assolutamente sì purtroppo l'episodio che ha scaturito tutto è stato il rigore nel primo tempo a mio parere inesistente perché il nostro giocatore aveva alzato il braccio per chiamare palla fuori infatti lui era fuori dall'altro lato c'era un rigore sacrosanto l'episodio dell'espulsione di Budabuzzi è stato un altro episodio che ha determinato il risultato dall'altro lato abbiamo incontrato una Lazio ben messa in campo il portiere della Lazio determinante purtroppo non mi piace parlare di arbitri ma quando vengono a fare i protagonisti diventa tutto più difficile abbiamo ricevuto due espulsioni e forse dieci cartellini gialli a differenza della Lazio che ne ha preso uno solo di cartellino giallo a vederla sembra la battaglia di Waterloo ma così non è stata è arrivata una sconfitta pesante dal punto di vista del risultato ti chiedo però qual è stato il momento chiave in cui la partita vi è sfuggita di mano? sì è stata una partita difficile che però a mio parere abbiamo dominato in lungo e in largo anche il primo tempo nel secondo siamo stati condizionati dalle due espulsioni che secondo me si potevano evitare anche con gente già munita erano evitabili anche perché noi dieci munizioni loro neanche una e questo ci fa pensare un po' non sono scusanti però credo che soprattutto le espulsioni siano state la parte dominante della partita che ci ha condizionato terza sconfitta consecutiva ti chiedo se è un momento difficile per voi oppure l'avate messo in preventivo anche perché in precedenza erano arrivate due vittorie convincenti sì le prime due partite abbiamo giocato benissimo siamo un po' calati nelle ultime purtroppo anche se secondo me questa partita l'abbiamo dominata abbiamo attaccato anche secondo me molto bene e difeso anche molto bene il primo tempo secondo me c'era un rigore inesistente che comunque ci ha fatto finire il primo tempo in svantaggi meritatamente c'è solo da lavorare ed è quello che è l'unica cosa che faremo sicuramente in questa settimana non avete molto tempo a disposizione perché sabato si va a Melilli senza Budapuzzi senza Di Viccaro bisogna davvero gettare il cuore oltre l'ostacolo come si suol dire sì purtroppo siamo senza giocatori importanti comunque giocatori che fanno molto minutaggio durante la gara questo sarà un punto a nostro sfavore cercheremo di colmare comunque tutti quanti non ci daremo il massimo arriveremo a sabato pronti per la gara grazie a tutti